Un esercito di ragazzi armati di scope e pennelli per le manutenzioni pubbliche e il decoro di parchi e scuole. Sono oltre 100 i giovanissimi fra i 14 e i 21 anni che in quest'estate hanno partecipato a Pesaro alla quinta edizione del progetto Ci sto a fare fatica, finanziato dalla Regione Marche e messo a terra dal CSV Centro Servizi Volontariato. Questa mattina si è chiusa un'edizione da record di partecipazione andata in archivio nella sede pesaresi della protezione civile con un momento formativo a cura della Croce Rossa con il saluto e il ringraziamento degli assessori Pandolfi e Camilla Murgia e la consegna dei buoni spesa a premiare l'impegno dei volontari. Siamo alla quinta edizione, un'edizione da record, in tutta la Regione abbiamo coinvolto 94 comuni, oltre 2.300 ragazzi, su Pesaro il numero è arrivato a oltre 100 ragazzi e siamo molto orgogliosi, io sono molto orgoglioso di questo progetto perché veramente dimostra quanto i ragazzi hanno voglia di mettersi al servizio della loro città, del loro territorio ma anche che hanno voglia di fare fatica perché c'è un concetto forse che noi non apprezziamo abbastanza ma a volte fare fatica serve a crescere e a fare un percorso che ci porta ad apprezzare di più quello che abbiamo anche in termini di bene comune. È importante poi perché questi ragazzi hanno avuto l'occasione di conoscere le tante realtà di volontariato della nostra provincia e della nostra città. Quindi grazie a questi ragazzi, grazie alla Regione Marche che ha finanziato il progetto e grazie a tutti i comuni che hanno aderito, che hanno ovviamente coinvolto e hanno partecipato a questa iniziativa. Ero curiosa comunque di provare nuove esperienze e di lavorare un po', di fare volontariato per comunque aiutare chi lo fa tutti i giorni. Ho fatto questa esperienza diciamo per tenermi soccopato durante l'estate, comunque reputo che sia una bella iniziativa sia per conoscere nuove persone, per comunque fare il bene comune. Io mi sono trasferito in questa città di Pesaro appunto e quindi mi ha dato modo anche di conoscere nuove persone, anche di conoscere questa città. Noi abbiamo comunque pulito diversi parchi, abbiamo portato appunto le siepi. È già con quel terzo anno che ho fatto questa esperienza. I ragazzi hanno fondamentalmente fatto un'attività di pulizia dei parchi, di ritenteggiatura delle panchine rovinate, in alcuni istituti si sono dedicati alla pulizia degli spazi comuni, quindi tutte attività ovviamente che non li coinvolgevano in attività pericolose, quindi senza utilizzo di macchinari elettrici o pericolosi, ma semplicemente di tenuta del bene comune, quindi pulizia di parchi e dei luoghi comuni.